Quarta tappa da Naturno a Valle del Chiese, Pieve di Bono, 168,600 metri complessivi, la più lunga del giro e sarà la tappa che offre anche maggior dislivello, ma sarà la salita a fare la differenza o la discesa? Inizia Passo Campocarlo Magno, gli atleti hanno già percorso il Passo Castrin, che è la vetta più alta di questo Tour of the Alps. Siamo entrati in Trentino, primo Gran Premio della montagna in Trentino, discesa veloce su Madonna di Campiglio, che conoscete tutti, e proseguiamo con la tappa. Passo Campocarlo Magno, seconda salita di giornata, le sorprese però non sono ancora finite. Dopo la salita di Passo Campocarlo Magno siamo in finale di tappa, siamo entrati nella Valle del Chiese, salita di Boni Prati. In questo punto ci troviamo circa metà dell'ultima asperità, località Castel Condino. Salita decisiva, ma attenzione, le sorprese in questa giornata non sono ancora finite, perché dalla vetta, discesa velocissima, tecnica, finisce praticamente a ridosso del traguardo, può succedere ancora di tutto. E ci siamo, Valle del Chiese, Pieve di Bono, qui l'arrivo della quarta tappa, abbiamo la visione di Pieve di Bono, ed insieme. Salita di Boni Prati, circa 10 km, è una salita vera. Chi avrà gambe per mettere in difficoltà gli avversari in salita non dovrà sentirsi troppo al sicuro, perché una volta scollinato, ripeto, la discesa può offrire ancora tutto. La discesa che porta qui all'arrivo può riaprire ogni speranza anche per quelli che sono dietro.